Qui vi spieghiamo come dare vetro lucido su pietra spaccata con gioia. È molto semplice. Paolo puoi procedere direttamente con il nostro pennello nell'applicazione. In questo caso vetro lo diamo abbondante e cerchiamo di non tirarlo perché se lo tiriamo potrebbe inglobare dell'aria. E tendere a diventare bianco. Ecco, è asciutto. A questo punto possiamo tranquillamente dare una seconda mano che può essere sia vetro lucido che vetro opaco, a vostra discrezione. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS